Notate, tutto per susseguirsi di episodi difficilmente simpatici, piuttosto spesso e volentieri problematici, che il Vangelo ci presenta nel capitolo 9, ricordiamo sempre, hanno come punto di riferimento 9, 21, 22. Vi ricordate di cosa si parla in 9, 21, 22? Gesù fa il primo annuncio della passione, che scombussola a un punto tale gli apostoli che non riescono più a raccapezzarsi. E per quanto lui faccia per cercare di ravvivarli, è come un pallone che pian piano si sgonfia sempre di più, sempre di più, sempre di più, e si restringe e diventa sempre più incapace di smuoversi da lì dov'è. L'ultimo quadro con il quale abbiamo terminato giovedì scorso era la trasfigurazione. Vi ricordate i due motivi fondamentali che hanno spinto Gesù a quel momento, a fare quel passo, a prendere tra i suoi e farli sperimentare qualcosa di quello che lui è, al di là di quel che si vede? Ricordate le due motivazioni fondamentali? Una riguarda lui, una riguarda gli apostoli. Quella che riguarda lui? Più che confermarsi per approfondire, completare la sua ricerca sul qual è la scelta che devo fare, la migliore, secondo il progetto di Dio, come svolgerla? Come realizzarla poi nel concreto? E infatti non a caso, mentre è in estasi, cioè prega quindi in modo così profondo da perdere il contatto con la realtà che lo circonda, con chi dialoga? Cos'è? E lì ha due simboli per dire? La legge? La legge e i profeti, quindi l'Antico Testamento. La rivelazione di Dio fatta da Abramo fino a lui. Dov'è che lì dentro Dio ha nascosto le linee guida del suo essere Messia? E come poi svolgerlo? Come realizzare il suo essere Messia? Secondo il progetto di Dio, del Padre? Questo è quello che riguarda lui, la motivazione che riguarda lui. Quella che riguarda gli apostoli? Non andiamo troppo in là, stiamo un pochino prima anche. Dargli la forza per? Bravo. Per N. SP. Non lasciarsi scandalizzare. Dalla sua Pasqua. Perché la sua è una Pasqua di morte e risurrezione. Ma la risurrezione è il capesimo, il capesimo si pena la morte. Le callecche di Abracolul. Ma se è così, allora è. Dove stiamo andando? In cosa ci stiamo incasinando? Che fine rischiamo di fare anche noi? Queste sono le cose che circolano nella mente e nel cuore degli apostoli in quel periodo. Ecco perché Gesù cerca di dargli una spintarella. Ma al momento è servito poco, poco, poco. Dopo qualcosa sì. Comunque vediamo. Adesso siamo al versetto 37. Notate, comincia dicendo il giorno seguente. Gesù e i suoi discepoli discesero dal monte. Vuol dire che hanno fatto le cose con calma? Luca non ci dice tutto quello che è successo là sul monte. Ci ha detto qualcosina che può riguardare noi. Ma tante cose che possono essere successo è il dialogo tra Gesù e i tre. Hai gradito, Argotoi, sarà messo in mezzo come pesce. Avrà fatto forse domande, avrà spiegato qualcosa. E avrà spinti a tirare fuori qualcosa loro. Penso che se c'era uno capace di girare con Turem per far saltafuori o cacchiega a interesse, era proprio lui, né? Sarà stato capace di farlo quel mestiere lì? Tirare fuori. Ci arriviamo con lui qualche volta. Lui, penso, un po' di più. Comunque per tutta la notte restano insieme, da soli. E il giorno dopo scendono. E cosa trovano? Prima cosa, molta gente andò subito in controllo loro. Gli è in cerca. E' gente che vuole portare a casa qualcosa. All'improvviso, in mezzo alla gente, un uomo si mise a gridare. Maestro, ti scongiuro. Vieni a vedere mio figlio, è l'unico che ho. Talvolta uno spirito maligno lo assale, improvvisamente gli si mette a gridare, poi gli fa venire le convulsioni, la bava alla bocca. Epilessia facilmente, attacchi epilettici. Alla fine lo lascia, ma a fatica, dopo averlo straziato. Ho chiesto ai tuoi discepoli di scacciare questo spirito maligno, ma non ci sono riusciti. E Gesù ha uno scatto abbastanza pesantino. Gesù disse, gente malvagia e senza fede. Oh ma proprio, e gare coca e rotte. E' una reazione di pelle proprio. Fino a quando dovrò restare con voi e dovrò sopportarvi. Non è il linguaggio sorrido del Vangelo. E' vero o no? Vuol dire che a livello umano grappulisce un momento dei sicchi minuti famosi. Portami qui tuo figlio. Notate, nonostante tutto non si tira indietro. Questo è bello. Perfino in un momento come questo, che esprime davvero un disagio profondo, forse si aspettava a livello umano di avere almeno un pochino di tempo per parlare anche con gli altri, cercare di aiutarli a smuoversi un pochino. Invece non c'è il tempo, non è ancora arrivato, è già richiesto. Mentre il ragazzo si avvicinava, lo spirito maligno lo buttò a terra e gli fece venire le convulsioni. Ha un attacco particolarmente pesante. Ma Gesù gridò contro lo spirito maligno, come sempre, cosa utilizza Gesù per guarire? La sua parola. Quelle volte o l'altro che fa dei gesti oltre alla parola è soltanto a livello educativo per cercare di aiutare chi si intorno a capire meglio, ma normalmente la sua parola è più che sufficiente. È stato sufficiente per creare il mondo? Sarà sufficiente anche per aggiustare qualcosa in questo mondo? È vero o no? Il ragazzo guarì e poi lo consegnò a suo padre. Tutti i presenti rimasero stupiti nel vedere la potenza di Dio. Erano infatti sbalorditi di ciò che Gesù aveva fatto. Cosa avesse di straordinario rispetto a tanti altri miracoli? Non saprei dirvi. Forse colpiva di più la fantasia, l'immaginazione, le sensazioni di vederlo contorciarsi, urlare, sbavare, eccetera. Avete visto ancora crisi epilettiche? Ecco, non sono cose belle da vedere. È vero? Senz'altro ci sono stati nei nove capitoli precedenti tante situazioni in cui la malattia era molto più pesante, molto più grave. La situazione umana era davvero catastrofica. Eppure difficilmente c'è una reazione dei presenti così emotivamente forte come in questo caso. Ma a me interessa cosa ci dice questo episodio in riferimento a quel che dicevamo prima, il peso dell'annuncio di Gesù che ha stroncato le gambe degli apostoli. L'annuncio della sua passione. Cosa c'è di strano in questo episodio? Non vi ha suonato qualche campanellino d'allarme nell'orecchia mentre leggevo? Sì o sì? Andate a 9-1? La solitudine Port de Haul è stata il marchio di fabbrica di tutta la sua vita tra di noi uomini. La solitudine purtroppo. Andate a 9-1? Cosa dice 9-1? Che Gesù coinvolge i dodici in un'esperienza di missione, in un rodaggio di missione qualche giorno e gli dà due dei suoi tre poteri. Il primo è? Bravo! Qualcuno che si ricorda qualcosa, né? Visto che ci siamo, ricordiamo, perché sono cose attive, per carità le parole greche, fino a un certo punto, quel che significa, la dynamis, la forza e la potenza, contro gli spiriti maligni. Il primo potere. Il secondo potere? Esusia. Cioè, signoria rispetto alle malattie. Le superiorità rispetto alle malattie, per cui non c'è paura di restare contagiati, ma anzi, attraverso il contatto, è la malattia stessa che si ritira, se si può parlare così. Un potere davvero di guarigione, che partecipa del suo potere di guarigione. Poi Gesù ha un terzo potere. Questa non c'è una parola di potere, di forza, di potenza, ma è la capacità di rendere presente il regno, il regno di Dio. Gesù ha questi tre poteri, in quanto Messia. Ci siamo? Cioè, poter fargli anche i peccati. E quindi poter perdonare, eccetera. Agli apostoli, mandandoli, di questi tre, quanti gliene dà? Due. I primi due. Perché non gli dà il terzo? C'è quello, ma soprattutto è il fatto che loro non hanno il compito di rendere presente il regno, è troppo presto, è ancora troppo presto, però è il compito, non un potere, ma un compito, annunciate che il regno è qui. Che se lui è presente, il regno è presente. Quindi annunciate a tutti che il regno, anche se non sono lì presente fisicamente, ma attraverso di voi sono presente anche io, che vi mando, quindi annunciate a tutti che io sono lì come salvezza. Il regno è presente come salvezza. Quindi due poteri e un compito. Invece per lui sono tre, tre poteri. Cosa dice l'episodio qua? Che davanti a quel malato non hanno avuto scusate la domanda che viene M.A. Ma l'Uro! E' l'italiano il resto. Quanto valgono i doni di Gesù? Quanto valgono i doni di Gesù? Tanto in quanto li fai io. Tanto in quanto tu lo fai io. Na 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 na. Gli dai il potere di cacciare i due spiriti maligni e di guarire i malati. Sto potere ce l'hanno o non ce l'hanno? E se ce l'hanno perché non funziona? Perché manca la fede. Perché manca la fede. Notate? N.S.U.A.C. non sono una assicurazione casco. Tu fa qualche del voi o comunque lei funziona. Un fix sec. La controprova. Luca fa silenzio cioè accenna al problema ricorda l'episodio anche perché gli serve proprio per far vedere come un certo atteggiamento interiore di diffidenza di difficoltà a capire accogliere affidarsi poi si applica si trasmette a tante situazioni concrete. Marco è meno preoccupato di far far bella figura agli apostoli è più duro in questo. Andiamo a vedere Marco cosa dice quando riporto lo stesso episodio. L'abbiamo visto due anni fa ma chi si ricorda di voi cosa diceva? Senza guardare chi si ricorda cosa dice Marco? Succede. Marco 9 al versetto 28 Marco 9 28 L'episodio è finito lui ha guarito il ragazzo malato tutti se ne vanno alla sera entrano in casa e una volta da soli gli apostoli Iacurius Gesù entrò in casa e i suoi discepoli soli con lui gli chiesero perché noi non siamo stati capaci di scacciare quello spirito? Cioè hai dato il potere perché non ha funzionato? non ha funzionato? Grazie.